Rimettere a nuovo questo posto sarà tutt'altro che facile. Che le pulizie abbiano inizio! Fred, questo pavimento di legno è sporco e molto rovinato. Qui con me ho un secchio con dell'acqua tiepida. Mai usare acqua calda perché rovina il legno. E nemmeno fredda. Tiepida, ok? Qui ho un prodotto biologico. La superficie è sporca. Ne mettiamo un po' qui e con lo straccio umido cercherò di ottenere un effetto fantastico. Abrasivo? Abrasivo, ma delicato. Non rovinerà nulla, ok? Questa è la spazzola che userò. La immergo nel secchio così. Poi spargo un po' di prodotto qui sopra. E strofino, vedi? Lo sporco viene via subito. Guarda. Lo vedi, vero? Adesso ti faccio vedere. Guarda. Ecco, vedi come viene via? Guarda. Questa era la sporcizia che c'era sul pavimento. Gary, guarda un po' qui. Sono stati i cani? Non credo. Non credi? No, siamo io e Fred. Io non capisco. Ma guarda in che stato sono le tue unghie. Le hai mai pulite? Sì. Certo. Una volta l'anno. Questo è il dentifricio? È abrasivo e contiene bicarbonato di sodio. Non usare mai quello in gel. Si prende uno straccio con un po' di dentifricio e si inizia a strofinare. Visto? Avrò strofinato cinque volte. Ora puliremo le piastrelle e le fughe. Nei bagni è molto facile che si sporchino. Pulirli è molto semplice. Anzitutto ci serve del vapore. Apriamo l'acqua della doccia, chiudiamo la tenda e anche la porta. Dopodiché usciamo per cinque minuti. Il calore che si verrà a creare ammorbidirà lo sporco e il grasso che è sulle piastrelle. Ok? Sì? Chiudiamo la tenda per evitare che esca il vapore. Ci siamo! Molto bene. Quello che dobbiamo fare adesso è semplice. Conosci questo... Si usa prima di tinteggiare. Sì, certo. Ne metto l'equivalente di tre cucchiai in un secchio con tre litri di acqua. E poi prendo una spazzola. Porterà via lo sporco senza rovinare le piastrelle. La bagno e strofino. Guarda. Che meraviglia. Ecco fatto. Bene. Va già molto meglio, non trovi? Pulisce benissimo. Sì, fantastico, no? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti